Si chiama Nicole Spearson, è una giovane ragazza di 26 anni d'età, la quale pensate che ha speso tutti i risparmi della nonna per acquisti passi su Amazon, il sito di commercio elettronico. Pensate che la ragazza avrebbe truffato la anziana sottraendole ben 22.000 sterline per comprare una vasca di massaggio, un iPad mini, diversi vestiti, diversi gioielli e addirittura dei piacevoli sex toys, quindi parliamo di dildo di ogni forma e di ogni colore. Per 4 mesi quindi si è data la bella vita, ha fatto ciò che voleva, si è divertita più non posso, dilapidando tutti quei soldi. Ma adesso la giustizia è intervenuta, la nonna 79 anni infatti è andata in banca per prelevare del denaro e ha scoperto che il conto era stato letteralmente svuotato. La mia vita in pezzi avrebbe fatto sapere la ragazza che adesso si pente amaramente di quello che avrebbe compiuto. Per rimborsare l'anziana donna ovviamente è stato necessario rivendere tutto nel web. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e a presto. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua.